Il punto nascita dell'ospedale dell'Annunziata resta in attesa, non proprio dolce per rimanere in tema. Mentre il Ministero è chiamato a bagliare il piano ospedaliero elaborato nelle scorse settimane dalla Regione Abruzzo, il reparto di maternità Pelinio si appresta a chiudere un'altra annata tra carenza di personale, turni aggiuntivi, numeri ridotti. Nell'anno che volge al termine sono circa 140 i nuovi I-804, i nati, cioè nell'ospedale cittadino. Il dato statistico ufficiale arriverà nel giro di 48 ore, ma quello che è certo è che il 2022 si piazza al di sotto della soglia dei 200 parti. È un dato che fa riflettere se si tiene conto dei parametri fissati nel decreto Lorenzin, ma che non deve meravigliare, nel senso che, come si sta facendo per i tribunali minori che poi minori non sono, la specificità territoriale è l'unico criterio che dovrebbe essere preso in considerazione dal momento che pure ospedali e punto nascita sono inseriti in un territorio orograficamente svantaggiato. Il piano predisposto dalla Regione per il mantenimento di ostetrici e ginecologia va proprio in questa direzione. L'analisi prende in considerazione tutti i comuni di residenza delle gestanti che hanno partorito nel presidio ospedaliero durante il triennio 2017-2019, rispettivamente 254, 237, 205, provenienti da ben 73 diversi comuni. L'eventuale chiusura del punto nascita comporterebbe il trasferimento della presa in carico delle gestanti e dei parti in punti nascite alternativi, con la conseguenza di 175.210 km in più percorsi annualmente che causerebbero un aumento del numero di infortuni, inclusi quelli mortali, pari a 1,6 all'anno. Inoltre la Regione, per scongiurare la bocciatura, si riserva di esprimersi con un provvedimento definitivo entro 24 mesi dall'attuazione del documento di programmazione. Tuttavia, politica e azienda sanitaria cadono in contraddizione in termini di investimenti sul reparto che hanno scelto di blindare. Nella pianta organica al momento risultano in servizio 4 medici su 7, di cui una specializzanda con contratto a tempo determinato. Da due anni nessuno paga i turni di lavoro aggiuntivi e lo strumentario rotto non viene ancora sostituito. La linea politica aziendale sancita nei documenti, bisogna tradurla nei fatti. E intanto si resta in attesa.